Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 del cuore di essere esauditi e mostrati di noi che siamo nell'amore dei nostri parenti di quanti altro risolvi di grazia e di contorno. Sappiamo che Gesù nulla di pornecare di ciò che tu chiedi. Ave Maria. Ho incolonata Regina Maria Santissima di Apicea. Molte grazie di interventi miracolosi a te si attribuiscono. Chi ti fissa in quegli occhi dolcissimi si sente attratto dall'amore ardente e da un senso di sicurezza che sta andando a cuore profondo. Ho la città di Apicea e tu hai scelto quale foro si è diventata distribuire di molti favori armati che hanno invocato sotto questo dolce titolo di scelte attrici di cianzianza in favore di tutta l'umanità. Accorgersi sotto quel manto celeste che si pietosamente estende su di noi. Accorgersi sotto la tua verna protezione delle nostre famiglie. Il tuo sguardo di guida e l'unità, l'acqua e le onze della visione e restituisca la serenità di testa. Siamo tutti peccatori, ma tu sei il nostro rifugio. Per questo ci sentiamo confortati e ci facciamo già con te come vivi che si è salpita alla puntezza e consensiva delle mani. Riconosciamo che Dio per il tuo verso uccidore di Cristo ogni grazia e ogni dono. Come a casa di Catelea, dove Gesù ha consentito, ha fatto dedicato il desiderio, come sul campagna, dove il Signore è venuto di propria morte, nostra morte, portati di questa certezza e meno di che nessuno, quando il quale si sia rivolto a te con fiducia, è stato rispettivo e poi ne avremmo così grazie al tuo ruolo e al tuo luogo. Se chiediamo male, insegnaci a chiedere. Se non sappiamo chiedere, aggiungi alla nostra tua credenza di Gesù e se non chiediamo a quello che concorda con noi di Dio, ottieni ciò che è la restituzione della pace. Ave Maria, ci viene la casa di Signore di Dio. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Poi incoronata la regina Maria Santissima di Apricina, in questo giorno solennissimo della tua festa, rostrati grazie al trono della tua maternità misericordiosa, con amico fiducioso, rivolgiamo sui nuovi più presenti, sui nostri familiari, sui demigrati e dell'eserro della natale, sul suo contente c'è la Chiesa italiana, sui nostri governanti di città, e se sul mondo intero, la tua benedizione di madre. Tu conosci, Dio, quanti problemi credo riuscire la vita delle nostre famiglie e la pubblicanza sociale. Perciò gloriamo e ottenerci dal Signore il più dono del rispetto scambiore, nella carità, nella riconciliazione, nella giustizia, nel perdono della pace e nella concorre. Guarda, benigna, la carattata della natale, che ti è causato in un benevole salvoare e vivella sotto l'infinità di Città di Pellissi. Benedicci e proteggi la tua propria di grazia, quando in una volta un buon dito di Maria Santissima in forma a te diceva e si impegna nella confusione del tuo gruppo. Noi vorremmo rimanere qui, ma se dobbiamo sottentere la nostra preghiera matale che riprende le ordinarie occupazioni, col cuore rimaniamo con gli occhi vissi e i tuoi occhi cerchi che intervai a me con la nostra causa sullo strugato insieme di credere e benedizioni. Amen. Come si? 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. 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 a tutti.